Sono i sette teli che rappresentano le ispettorie salesiane che portano la luce nel mondo a chiudere l'evento conclusivo al Teatro Petruzzelli del bicentenario della nascita di Don Bosco al Sud. Bari è stata scelta per la serata che ha chiuso l'anno di celebrazioni aperte ad ottobre scorso al Teatro San Carlo di Napoli. Alla riflessione sul tema E ora di oratorio, scelto per sottolineare la centralità dell'esperienza dell'oratorio salesiano, ha partecipato il rettor maggiore della congregazione Don Angel Fernandez Artime, decimo successore di Don Bosco, festeggiato dai 150 ragazzi del coro del Movimento Giovanile Salesiano. E attenzione agli oratori, risposta concreta ai bisogni di tantissimi giovani di Bari dell'Ispettoria, e ha chiesto Don Pasquale Cristiani, ispettore dei Salesiani al Sud. Un messaggio recepito dalla giunta regionale pugliese che su proposta dell'assessore al welfare Salvatore Negro ha approvato proprio in questa giornata, coincidenza sottolineata dal presidente Milano, lo schema di disegno di legge sul riconoscimento della funzione socioeducativa degli oratori in Puglia. Sì, 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 sì! Sì, sì, sì!